Assessore Fantino, bella manifestazione qui al Palabre Banca, che cosa rappresenta dunque questa competizione, questa manifestazione per la città di Cuneo? Un campionato regionale nel quale il club schermistico di Cuneo già ieri si è fatto valere con tre titoli, rappresenta anche un momento di valorizzazione del nostro palazzetto perché la scherma ben si presta per questa struttura. Per la verità c'è anche un po' di rammarico, con la società avevamo chiesto alla federazione di avere un interregionale ma purtroppo per questioni di calendario, anche di calendari internazionali non è stato possibile, ma questo significa che noi nei prossimi anni cercheremo di alzare il tiro nel richiedere manifestazioni anche più importanti perché la società scermistica di Cuneo sta lavorando molto bene e la struttura è assolutamente prestante. Dunque una bella crescita che non può che fare bene? Sì, una crescita che non può che fare bene allo sport cuneese, alla città di Cuneo e penso anche all'aspetto della scherma regionale.